Io sono felice perché Siri è un'artista che trovo davvero, davvero talentosissima. Ha deciso di fare questa cover, io non ci potevo credere, perché la canzone mi piaceva allora e mi piace anche adesso. E quando mi ha proposto di giocare ho detto ma sì dai giochiamo un po', aperta e chiusa parentesi. Però il fatto che ci sia così tanto affetto intorno è notevole. Adesso stanno mandando tutti dei video personalizzati che scimmiottano un po' il nostro e questo mi sembra bellissimo. Cioè vedi è un mondo che ha fatto pace dopo vent'anni. Prima ero il demonio in classifica, adesso invece visto che è carino, visto che è divertente. Bisogna solo, lo dico sempre, è il tempo che deve passare. Poi i conti tornano, quasi sempre.